La nostra Train of America ci saluta e in permut abbiamo questa bellissima CBR600F Ottima base, è un bellissimo anatroccolo ma noi come al solito lo sappiamo valorizzare ancora di più Primo step ragazzi eseguito, un adagio completo, il secondo step tagliando l'ucidatura ed è pronto per il salone Adagio 19 C'è solo l'imbarazzo della scelta ragazzi, tutte le moto che volete sono qua, anche quelle che abbiamo appena preparato